Una tecnologia altamente innovativa, sensori ottici a infrarossi, capace di riconoscere e differenziare i tessuti per tipologia di fibra tessile e colore, con una potenzialità di trattamento di 4 tonnellate l'ora che a bassissimo impatto ambientale permetterà di recuperare 32.000 tonnellate annue di rifiuti tessili su un totale di 34.000 pari al 94%, dentro i target previsti dal PNRR. E' cosvelato il Cenciaiolo 4.0, l'evoluzione dell'attività di recupero che il distretto pratese fa da 200 anni e che vuole continuare a fare come capitale europea del riciclo tessile. L'hub di cui tanto si parla in questi giorni è stato presentato questa mattina dal Comune di Prato e da Alia Servizi Ambientali che lo realizzerà e gestirà. Presenti tutte le categorie economiche e sociali della città, dimostrazione dell'importanza dell'impianto per il futuro del distretto e quindi della città. Al termine della presentazione i soggetti hanno siglato un protocollo d'intesa sull'implementazione degli obiettivi del progetto. L'impianto, il cui sistema tecnologico è di tecno-tessile, darà lavoro ad almeno 50 persone e sarà contenuto in un capannone di 7.800 m2 su un'area complessiva di oltre 21.000, individuata, come ormai noto, su un terreno comunale in via di Baciacavallo, accanto a Gida. La porzione, già in uso ad Alia, non ha bisogno di cambio di destinazione urbanistica, al contrario degli attuali campi di calcio del Paperino, che a breve si sposterà nella nuova struttura in via Lille. Costerà 18 milioni e mezzo di euro e dal PNRR, attraverso il bando del Ministero della Transizione Ecologica, che scade il prossimo 14 febbraio, dovrebbero arrivare 2 milioni e 100 mila euro. Il resto sarà coperto da Alia, che poi li recupererà con la messa in funzione dell'impianto, per il quale le imprese pagheranno una tariffa d'ingresso e il prezzo dell'acquisto del prodotto recuperato. Alia ha stipulato un accordo con gli altri gestori toscani, perché l'impianto sia l'unico in Toscana. La possibilità, attraverso la tecnologia Tecnotessile, di eliminare l'elastomera dal filato, permette di prendere il filato e riavviarlo alla produzione primaria. E naturalmente questo è tutto prodotto che fino ad oggi va a smaltimento, in discarica o in termodolarizzazione e che un domani invece non avrà più quella destinazione. Delle 34 mila tonnellate anno e 14 mila sono pre-consumo, ossia scarti di produzione pari alla metà dei rifiuti prodotti dal distretto pratese, mentre il resto è post-consumo l'usato, circa 20 mila tonnellate che all'intero fa bisogno della regione.